Un workshop legislativo su tre temi, pubblica amministrazione, sviluppo e finanza, per scrivere insieme dal basso la nuova legge regionale sulle start-up innovative. E questo è l'obiettivo dell'incontro, organizzato dalla Consulta Giovani a Palazzo Lascaris. L'incontro si è chiuso in sala Morando, dove gli start-upers hanno evidenziato difficoltà e proposte. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a trasformare l'impulso creativo della nostra generazione in imprese funzionanti, attraverso l'attività della regione Piemonte che in qualche modo venga a loro incontro. Oggi ci troviamo qui con tre tavoli, pubblica amministrazione, sviluppo e finanza, con lo scopo di raccogliere da tutti i ragazzi le istanze per trasformare il Piemonte nel luogo migliore nel quale aprire una start-up. Questo è il nostro obiettivo, oggi noi raccogliamo con documenti precise e puntuali tutte le idee e le possibili soluzioni per il Piemonte. Ci aspettiamo che finalmente veniamo interpellati a monte e non a valle dei processi decisionali. È un'occasione interessante per far sentire la nostra voce nei momenti in cui le cose si decidono e quindi non trovarci poi a valle con le decisioni già prese e subirle. È una bella occasione che secondo me dovremmo cogliere e stiamo cogliendo.